Trovare le esorse finanziarie a copertura della misura è solo ed esclusivamente questione di scelta politica. Una scelta che ci auguriamo il Consiglio regionale voglia compiere insieme a noi, individuando le poste necessarie a fornire il reddito minimo garantito a chi ne ha bisogno. Così Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle, primo firmatario della proposta di legge targata Movimento 5 Stelle, che ha illustrato alla terza commissione consigliare competente, preseduta da Rotelli del PD. Il dispositivo mira introdurre il reddito minimo garantito, ovvero una serie di interventi per contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale a favore il diritto e il lavoro alla formazione attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di immaginazione. Nel 2012 l'incidenza della povertà relativa alle famiglie in frulli Venezia Giulia è aumentata dal 5.4 al 6.1 da Turistat luglio 2013 e la situazione, a detta del proponente, è anche una peggiorata. Preoccupante è anche il dato della disoccupazione che nel 2013 sarebbe tal 7,4 allargamente. Quello sull'occupazione giovanile sarà portato agli anni precedenti. Le occupate tra i 15 e i 24 anni in regione sono 13.000, mentre lo erano 19.000 nel 2012 e addirittura 29.600 nel 2008. Questa proposta ha fatto in furiare, come si poteva immaginare, Mara Piccina e della Lega Nord, andare a distribuire soldi a pioggia così e creare solo false speranze.